è quello che sono io da giovane non è affatto giusto che i miei genitori mi abbiano abbandonato in questo modo se solamente io non fossi così gracile ma ora dovrò imparare a cavarmela da una formazione imbattibile perché non volevo che le attenzioni di sasuke fossero concentrate solo su di te ma che bella sorpresa ha dovinato tutto questa frase io sono il signor maiale ho detto che se non vuoi rimanere puoi anche andare ha scrivato rimanere? chi è? bomba non si svegliano qua siamo veramente una merda sembra un pokemon non posso usare le onde ultrasoniche se quello mi cagano ma io mi sposterei non serve a niente il tuo intervento così aumenti solo la confusione tecnica del controllo dell'ombra che cosa è successo? dosu cosa pensavi di fare con quell'intervento? la tecnica dell'incatenamento ombroso avanti Ino occupati di quella ragazza subito e tu amico prenditi cura del mio corpo mentre io non ci sono tecnica del capovolgimento spirituale i loro poteri sono utili però eh infatti non so la squadra che ho equipato perchè poi la squadra di Naruto non ha poteri? come no? sasuke ha un sharingan ok quello dico poteri così non ho avuto segura che non serve resistere mi sono impossessata del corpo di questa ragazza se le volete bene dovete rinunciare al vostro rotolo e sparire da questo posto per sempre rimane il solito problema che loro non sono abituati a ammazzare la gente perchè sono stati sempre in un villaggio pacifico cioè per loro può anche morire quella sì ma ma i i colpi li beccano pure lei però sì allora che senso ha no è utile in certi caso cosa hai detto? noi vogliamo solo sasuke che intanto sta praticamente friggendo accidenti il tempo è scaduto oh mi dispiace che il tuo incatenamento ombroso non possa durare più di pochi minuti se chi perde la vita la perderà anche lei dico bene? non starete pensando di far fuori la vostra amica? se proprio dovesse servire sì che squadra non sapevo che non funzionava questa è la fede volete vi diamo noi una lezione? io non credo che sia il caso il fatto che sappiate di essere più forti di loro non vi da assolutamente alcuni un'annucciata è diventata un'orgia un pochino di gente c'è ci sono metà dei candidati a quanto pare i giovani ninja spuntano come funghi se ti avete fatto del male la pagherete ha uno sguardo davvero penetrante quegli occhi hanno la capacità di trafiggere se è la guerra che volete guerra sarà i cani che abbaiano non mordono perché non vieni a farci vedere quello che sai fare? no grazie a questo punto mi pare che non ce ne sia più bisogno come? sono rimasto a osservare nell'ombra senza muovere un dito adesso ho il potere adesso ho il potere ti sei svegliato? è mostruoso è mostruoso rispondi gli effetti del signo si sono impossessati del suo corpo una frase del genere se la sogna nei prossimi dieci sogni erotici sei quanto saranno? che cosa ti sta succedendo? non ti preoccupare è tutto a posto adesso sento la forza che mi scorre nelle vene non mi sono mai sentito meglio in Italia io sono un vendicatore e il percorso che devo seguire richiede forza dimmi quale di questi vermi ha usato farti del male sono stato io piccolino questo proprio cercassi le onde non ha visto le onde intorno no no ma pure con il ciccione capito? cioè proprio a cercarsene io avrei un po' paura eh fa tutta questa immagine inquietante intorno a lui io ho tanto paura e come faccio a saperlo? appunto c'è sta su dove si sta andando a fuoco lontano è puntaggiosa sta cosa? è troppo potente mi spaventa questi sono i suoi ultimi respiri tirati di me fermo a sacco non hai ancora capito? questa volta non hanno scappo volta superiore da niente molto bene li ho fatti a pezzi davvero? col mignolo un altro po' col peso del mignolo si è spostato in un istante ha portato via anche gli altri due attenzione ma non è possibile quelli sono shuriken Saku attento ok gli ha rotto la spina al sale come ha fatto Sasuke a diventare così un dopato di merda sembravi tutti così no 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 a quanto pare ora sei rimasto solo tu con questo verme è stato facile spero di avere più soddisfazione con te e mo che faccia? non ci credo pigliate la pergamena che qua non si vince con l'aria? Sasuke è diverso devo cambiare tutto il matrimonio fermati ti prego Sasuke ti sopplico non farlo il segno maledetto si sta ritirando sei troppo potente ah almeno l'ha capito vieni ti consegno il rotolo in cambio lasciaci andare via e sono sicuro che avremo occasione di incontrarci di nuovo ma avrai sempre il nostro rispetto vorrei 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 aspetta ti senti una pippaccia mo che te spingi il segno eh? quello che l'ha detto così sono sicuro che torni perché ne vuoi di più ti senti una pippa non c'è sì Woo! Autore dei sorrisi